buongiorno ascoltatori di youtube ma guardate oggi dove sono ma guardate bene questa pista ciclabile osservi reporter che bella questa pista ciclabile che siamo venuti a piedi dalle cascate del sprizzottolo fino a qua prima luna qui c'è un torrente denominato torrente pioverna aldo oggi è in valsassina ai piedi della grigna si ai piedi della grigna vicino al torrente pioverna in un paesino che mi è piaciuto tantissimo il nome prima luna e poi vi dirò cosa faccio qua e luigi è andato a cercare le castagne io no sono un lazzarone non faccio la fatica per cercare le castagne ho fatto solo la fatica di fare un bel picnic qui seduto guarda riprendimi attraverso tutto questo bel cibo allora il salame e il formaggio nostrano poi il taleggio della valsassina e il taleggio più buono è quello d'introbio il mauri ciresa e così sono qua a fare il picnic vicino al torrente dove non fa freddo qui in questa panchina e lo stato stato quattro anni fa col braccio rotto oggi sto bene avevo il braccio ingessato perché ero caduto sul binario della ferrovia oggi mi rallegro del mio essere in quanto sono positivo nel vivere amare la vita in quanto io amo il senso naturalistico di queste montagne che avvolgono la valsassina di queste belle montagne che giorno dopo per giorno studiamo tutti i più piccoli paesi riprendimi qua al torrente pioverna luigi dopo ti buto dentro fai un bagnetto lì nell'acqua fredda lì lo vedi l'acqua fredda ti lavi i piedi nell'acqua fredda e poi facciamo ancora il sentiero della mia vita lo chiamo perché il sentiero ciclabile percorribile della valsassina ciao sandro ciao sono qua a prima luna guarda che bel picnic io e luigi sono contento di amare il senso naturalistico quello che dà a me la vita aldo aldo a me la vita Grazie.